La nostra associazione è composta da ex senza dimora e da persone senza dimora, quindi sappiamo benissimo che cosa significa non avere una residenza. La residenza è una cosa fondamentale per i nostri associati e che comporta una serie di diritti e il problema fondamentale secondo noi è anche la mancanza di informazioni da parte dei sindaci, dei servizi e di tutti quelli che si occupano di ex senza dimora.